Quello che noi dobbiamo fare per essere all'altezza di questa sfida è fare una scelta, la scelta che io vi propongo è questa, è di fare della nostra partecipazione a queste elezioni una partecipazione alle elezioni che sarà centrata su una lista, la nostra lista, la lista del Partito Democratico, che vogliamo essere una lista aperta ed espansiva, aperta ed espansiva soprattutto a chi ha condiviso il progetto delle Agora, ha lavorato insieme a noi in tutti questi mesi, penso soprattutto alle due forze più strutturate che hanno fatto questo lavoro con noi, articolo 1 per un verso e Demos per un altro verso, un lavoro fondamentale sui contenuti che ci porti a far sì che questa lista aperta ed espansiva sia il cuore del nostro progetto. Io vorrei che questa lista avesse a riferimento l'obiettivo di un'Italia democratica e progressista, questo è l'obiettivo che noi dobbiamo darci e questo è il brand che dobbiamo lanciare, quest'idea di un'Italia democratica e progressista che è alla nostra portata, è alla portata della forza della nostra proposta e questa lista per un'Italia democratica e progressista è una lista che deve essere il centro della nostra campagna. Questa lista presenterà il progetto per l'Italia del 2027.